Eccoci, buongiorno a tutti e benvenuti alla 134esima live del podcast di Psyne. Benvenuti e benvenute, intanto mi nutto bene. Sappiate che questa mattina è una mattinata molto particolare perché probabilmente arriveranno 50 corrieri Amazon e io sarò costretto a correre via. Ma il tema di oggi è super interessante, l'ho già introdotto nella live su Instagram. Oggi parliamo della serie TV dei De Ferragnez che come probabilmente sapete e saprete e la maggior parte di voi sicuramente saprà è la serie televisiva che racconta un po' le vicissitudini interiori ed esteriori della coppia di Chiara Ferragni e Federico, detto Fedez, Federico Maria, adesso non mi ricordo come si chiama tutto il nome completo. Ma comunque, a parte questo, la serie è davvero, davvero molto interessante soprattutto, principalmente per noi, perché ancora una volta questa splendida coppia sdogana la nostra cara psicologia, la nostra cara psicoterapia e lo fa in un modo talmente profondo che sono pronto a scommettere che tra dieci anni questa grandiosa, questa grandiosa iniziativa sarà ricordata nei libri di storia della psicologia. Lo so, forse è un po' grande come affermazione, forse ci sarà qualche mio collega dall'altra parte che sta storcendo il naso e sta pensando no, ma tutta questa roba pop all'interno di una cosa così sacra come la psicologia e invece è proprio il ponte, il ponte essenziale che mette in contatto la cultura pop con la cultura psicologica. basta, proprio la tecnologia, il punto digitale che ci consente di, come possiamo dire, di disgregare, rendere liquida tutta la nostra realtà, ci ha consentito di smetterla di creare delle gerarchie di conoscenza, delle gerarchie del pensiero. Qualcuno magari potrà dire sì, ne ha create altre, probabilmente è vero, però dovete sapere che noi psicologi, psicoterapeuti, sono anni che facciamo fatica a proporre la nostra professione in modo sia serio che accattivante, anzi nel tentativo di rendere così seria la psicoterapia l'abbiamo quasi allontanata da uno dei suoi scopi iniziali. Il suo scopo iniziale è quello di migliorare l'essere umano, non è solo quello di curare le persone che stanno male, ovviamente c'è anche quell'aspetto, ma l'aspetto essenziale è quello della crescita. E questa non è una faccenda che stiamo copiando al coaching o a chissà qualche altra modalità moderna di aiutare le persone, ma è qualcosa che in realtà è successo proprio il contrario, quelle persone che si occupano di crescita personale l'hanno presa dalla psicologia. Ne abbiamo parlato molte volte, il campo della crescita personale emerge come terza forza all'interno di, diciamo così, di una situazione particolare nel Nord America quando Abraham Maslow, Carl Rogers, Alfred Adler iniziano un pochettino a essere dissidenti nei confronti del comportamentismo e della psicoanalisi e fondano questa psicologia umanistica che vede già l'essere umano come un essere incompiuto che può crescere, che può migliorare per il resto della propria vita. Quindi non vede solo l'essere umano come un individuo pieno di conflitti, un essere scabroso che quando il bambino si tocca, scusate per citare un po' Freud male, ma vede invece la possibilità attraverso strumenti psicologici di riuscire a far crescere l'animo umano in tutti i sensi, sia a ripararlo e sia a farlo crescere. Detto questo, la serie a me sta piacendo particolarmente, soprattutto perché è tutta narrata intorno allo psicoterapeuta e questo è super interessante. Quindi prima di proseguire lasciate che coinvolga più persone attraverso il nostro canale di Telegram e mentre vado sul canale di Telegram voglio ricordare a tutti che questa mattina siamo in lancio con il nostro ennesimo video percorso, molto bello e molto frizzante, dedicato alla self-love. Sì, perché la psicoterapia, la psicologia ha anche questo aspetto, è un modo per prenderci cura di noi stessi. E quindi io ti pongo una domanda molto semplice. Tu come fai ad amarti? Come fai a sapere che ti ami? Ecco, noi abbiamo creato un percorso di 30 giorni in video dove ogni giorno ti faccio fare un piccolo esercizio, lo facciamo insieme in video e che ti condurrà al termine di questi 30 giorni ad amare molto più profondamente te stesso perché è proprio attraverso l'amore verso noi stessi che possiamo esprimere per davvero l'amore verso gli altri. E ti racconto una metafora che probabilmente già conosci, ma ho bisogno di raccontartela ancora perché è significativa in questo ambito. Però prima, prima, prima andiamo su Telegram. Ok, ricordatemi la metafora che sto per dimenticarmi. Oggi c'è tutto che va un po' storto e quindi perdonatemi. Andiamo su Telegram, andiamo su Spreaker. Eccoci qua, che è l'unico posto dove tra l'altro vi posso vedere. Buongiorno a tutti, buongiorno Serena, Gaetano, Antonietta, Ciro, Luca. Arrivo, eh? Arrivo e rispondo alle vostre domande. Sapete? Buongiorno Monica, buongiorno Alessandro, Luca, ancora ancora. Allora, prendiamo la live. Sto facendo una cosa che tutti gli psinellini di buon cuore dovrebbero fare. cioè quindi condividere, condividere questa roba. Ecco qua, parliamo, parliamo dei Deferragnezzi. Eccoci qua, eccoci qua. Quindi andiamo qua, questo l'abbiamo mandato. Andiamo a vedere, torniamo qui ai nostri commenti. Fatemi capire di nuovo come funziona la chat. Non volevo guardarla, mi hai convinta, dice Grazia. Penso che il tuo corso di self-love sia un bellissimo autoregalo di Natale. Grazie, grazie, grazie. Eh, esattamente, l'abbiamo pensato proprio in questo senso qua. Come un modo per prenderci cura di noi stessi e prenderci cura anche degli altri, del nostro amore. La metafora che voglio raccontarvi è una metafora molto famosa e non è neanche così tanto metaforica. Chiunque di voi abbia mai viaggiato in aereo avrà visto questa faccenda particolare. Quando c'è l'hostess o lo steward che in quel momento stanno indicando i sistemi di sicurezza dell'aereo e affermano una cosa un po' particolare. Dicono, se siete, state viaggiando con un bambino piccolo, se per caso si dovesse depressurizzare la cabina e quindi dovesse mancare l'ossigeno, scenderanno le mascherine. Ti spiegano anche come tirarla fuori se non scende da sola. E ti dicono, mi raccomando, in quel momento lì, fate, indossate prima voi la mascherina e poi datela a vostro figlio. La prima volta che una persona sente questa cosa pensa, ma scusa, io amo così tanto mio figlio che è ovvio che la prima cosa che faccio è pensare a lui, quindi tirerò giù la mascherina, la metto a mio figlio e poi la metto a me stesso. Ma questo sarebbe un errore molto pesante, perché? Perché se tu svieni, nessuno dei due si mette la mascherina. Ok? Quindi se tu svieni, nel senso, se tu non hai ossigeno, non potrai dare ossigeno a tuo figlio. Fuori di metafora, se tu non hai amore, non potrai dare amore agli altri. Ne abbiamo parlato in questi giorni, vi ho parlato della metafora dei porcospini di Schopenhauer, questa è l'ennesima metafora che riguarda proprio il fatto che se vogliamo essere un centro per le altre persone dobbiamo occuparci di noi, dobbiamo rafforzare questo centro. E vi posso assicurare che gli effetti del rafforzamento di questo centro sono visibili e molto interessanti. È bello, è bello, è bello quando una persona si accorge della vostra capacità di essere un centro, di diventare quel centro di gravità permanente, di battiata, di battiata memoria. Quindi ragazzi, andiamo subito a leggere un po' i vostri commenti e poi se volete approfondiamo. Ah, mi avete chiesto prima chi fosse lo psicologo, perché l'approccio di psicoterapia di Leon Baruch, adesso non so come si pronunci, è davvero molto interessante e molti anni fa io mi ero appassionatissimo, appassionato del suo approccio psicoterapeutico che ho anche approfondito. Qui a Padova c'è un centro dove lui insegna proprio questo approccio e mi sono anche chiesto onestamente, quindi ultima parte di gossip e poi andiamo a rispondere alle domande. Mi sono chiesto, guardando la serie TV, che ricordo, normalizzando la terapia di coppia, la terapia state facendo ragazzi un piacere enorme a tutti, a tutto il mondo della psicologia, non solo italiana, ma in generale. Ecco, è un tipo, è un approccio di terapia molto scenico, in realtà, anche se non si vedono gli aspetti scenici della psicoterapia. Certo, si vede qualche lacrima, ma è del tutto naturale che si veda qualche lacrima in terapia. Ma questo approccio terapeutico è un approccio dove solitamente si piange parecchio, non perché venga consigliato, ma ecco, giusto per dire una cosa molto bella, che non vi spoilera nulla, ad un certo punto Chiara Ferragni si emoziona, inizia a razionalizzare la propria emozione con delle parole, e il terapeuta gli dice Chiara, cosa abbiamo detto? Che cosa succede quando arriva un'ondata emotiva? dobbiamo imparare ad accoglierla, senza razionalizzare. E se per caso qualcuno di voi ha emotional freedom, è stato in terapia con me, oppure mi ha sentito parlare di queste faccende, e probabilmente ci sono decine di puntate dove ne parliamo, sono anni che ripeto esattamente questa cosa. Vedete, per troppo tempo abbiamo pensato che avere un bel pensiero potesse scacciare via, o controllare o gestire il nostro mondo emotivo, quando il primo approccio è sempre quello di sentire, e si vede bene nell'approccio del mio collega, che ringrazio anche per non essere stato, almeno per ora, non essere stato tentato dal vipismo, quindi non si fa inquadrare, non so se sia una scelta, perché si può trovare il suo nome online, non è che ve lo sto spoilerando, se scrivete psicologo Ferragnez, il primo risultato per me è tv fanpage, chi è Leon Baruch, scusate, psicoterapeuta di Chiara Ferragne e Fedez, cioè quindi non è una roba segreta, tuttavia lui non si fa inquadrare, non si fa vedere, mantenendo quel giusto distacco, tra virgolette giusto, ok, perché dovremmo parlarne, quante volte ho visto vip che magari sono rimaste incinta, a fare dirette con il proprio ginecologo, anche quello ti guarda nell'intimo, eppure si fa vedere in faccia, scusate, scusate la battuta, ma è vero, cioè dobbiamo normalizzare tutto, quindi per tutti quanti, esattamente come stanno facendo, mi piace, mi piace molto, mi piace molto come sta venendo fuori il programma, mi piace molto come sta venendo fuori la psicoterapia, e quindi sono molto contento. Tony sta scrivendo, allora vado in fondo ragazzi, perché ci sono domande che sono arrivate prima, e cercherò di leggere quelle, buongiorno, 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 sono stati i soprano a sdoganare la psicoterapia, eh no, non diciamo cavolate Tony, buongiorno finalmente, ottimo, domanda, quale dei tuoi corsi implementa di più il concetto di serenità come tu lo intendi nella puntata 409? Luca, allora non hai ascoltato bene la puntata, perché il concetto, perché il concetto, ah no, ok, aspetta, ho letto io male il tuo messaggio, quale? Dipende, dipende Luca, dipende a che livello sei del tuo percorso di realizzazione personale, mi spiego meglio, se sei molto consapevole, ok, quindi mediti, hai una base di meditazione, sicuramente se non sei abbastanza sereno e perché magari non hai ancora trovato un significato nella tua vita, e questo può essere fatto ad esempio con STS, scrivi la tua storia, se invece hai molto significato della tua vita, perché se è una persona che da anni scrive e ragiona sulla propria autobiografia, invece al contrario potresti fare self kindness oppure MMA, viceversa, se invece hai, capisci? cioè quindi in base a dove tu ti trovi, puoi andare a pescare da un'altra parte, quindi se sei una persona molto consapevole potresti implementare la tua crescita e la tua realizzazione attraverso la scoperta dei tuoi valori, di che cosa è importante per te, ad esempio attraverso la self kindness o anche attraverso il prodotto che sta uscendo oggi, che è molto più adeguato per fare questa cosa, la self love, oppure se per caso scopri che sei una persona che ha un modo particolare di trattare se stessa, soprattutto per quanto riguarda il concetto di autostima, quindi che hai un'autostima ballerina, allora sicuramente la self kindness, se invece noti che questa serenità è bloccata dalla tua incapacità di affrontare le cose a causa di forti emozioni come la timidezza, la vergogna, allora sicuramente emotional freedom, quindi potrei andare avanti, cioè le combinazioni sono infinite tra i prodotti e tra i nostri percorsi. Buongiorno Raffaella, buongiorno Antonietta, stavo pensando la stessa cosa, grazie, credo che mi farò questo bel regalo, grazie Antonietta, grazie, grazie, tra poco uscirà, anzi non so ragazzi se c'è qualche, se c'è qualche mio collaboratore online, magari c'è la possibilità di vedere subito il link, sicuramente lo metterà qua tra poco. Simone, ciao Genna, in famiglia faccio fatica a relazionarmi con i miei genitori, faccio fatica a tornare a casa felice, perché soprattutto mio padre ha sempre qualcosa da dire, è spesso nervoso, punzecchia continuamente mia mamma e questa cosa mi dà fastidio. Vorrei molto avere un bel rapporto, perché lui fa qualsiasi cosa per noi, ma allo stesso tempo è ingestibile. Quando litighiamo e arrivo al limite, gli consiglio di andare in terapia, come faccio io, e dice che dovrei trovarne uno più bravo. Mi passa la voglia di far vedere i miei traguardi con la mia nuova attività che mi sono aperto? E triste come cosa, c'è proprio un muro tra me e lui. Allora Simone, la prima cosa che devi tenere a mente, intanto è una faccenda complessa questa, e dovrei capire meglio parlando delle relazioni, di cosa pensi tu di lui, e qui non abbiamo il tempo, visto che hai espresso una cosa molto particolare e molto complessa. Però posso dirti a grandi linee le prime cose da tenere a mente. La prima cosa da tenere a mente è che tu, Simone, sei la versione 2.0 di tuo padre, anche se è merito suo che tu lavori, è merito suo anche che tu sei vivo. Spoiler, è merito dei nostri genitori se voi state ascoltando queste parole, per quanto vi stiano sulle palle i vostri genitori, anche perché non è incomune che i genitori ci stiano sulle palle. Perché? Perché come nella metafora dei porcospini sono talmente vicini a noi, sono a volte talmente simili a noi, al punto tale che noi rifiutiamo questa similitudine, che muoverci vicino a loro è complesso. E questo è uno dei motivi per cui a una certa età sarebbe bene uscire di casa. Ok, Simone? Quindi, attenzione, non sto chiedendo, non sto dicendo di tagliare i ponti con i tuoi genitori. Tutta quella roba che vedete un po' settaria, taglia il cordone ombelicale, abbandonando i tuoi genitori, è una cazzata pericolosa. State attenti, ok? A meno che non siano davvero, davvero fortemente pericolosi per noi stessi. Al di là di questo, però, riuscire ad allontanarci un po' dopo una certa età, e vedo dalla tua fotina che tu potresti avere quell'età per riuscire ad allontanarti, sarebbe un'ottima cosa. Perché? Perché ti consentirebbe di creare nuove associazioni, non solo nella tua vita, che è la cosa più importante di tutte, ma anche nella vita dei tuoi genitori. Cosa significa? È un po' come dire che finché tu resti in casa sei una piantina dentro a un vasetto piccolo. Quando invece esci fuori di casa, che sia semplicemente prenderti una stanzetta in affitto con altri ragazzi a un chilometro da casa tua, ok? Non devi andare in Giappone a vivere, ok? Ecco, che sia semplicemente fare una roba del genere fa sì che tu possa mettere radici in un nuovo terreno molto più ampio. E questo ti consentirà di accogliere la, come potremmo dire, la fallibilità naturale che hanno i nostri genitori. Nel self-love si sente più la cura piuttosto che il centro di gravità? Giusto? Ok. Sì, in quel senso lì sì, ok, ci sta, sì. Ciro ovviamente fa riferimento alle canzoni di Battiato, ma c'è sì, sì, più la cura che sì, dai, diciamo di sì. È una bella, è una bella analogia. Aspetta, aiuto, aiuto. Gaetano dice, non mi sta piacendo per niente la serie, è una famiglia famosa su nulla, lui diventato famoso all'inizio acquistando followers e vestiti firmati costosi da pubblicizzare con i soldi del papi, lui famoso solo per dare canzoni finto popolari, fingono di aiutare gli altri, ma è soltanto per vendere ancora di più i loro prodotti e aumentare il loro ego. Ego, soprattutto lei, sono invece dei bravissimi imprenditori e su quello non si può dire nulla. Io non lo so, non sono d'accordo Gaetano, a me piace, loro potrebbero tranquillamente, quando fingono di aiutare gli altri, come fai a saperlo Gaetano? Come fai a sapere che fingano di aiutare gli altri? Io credo davvero che in un mondo così, come dire, così interconnesso sia davvero difficile, ma come, vabbè, vabbè, lasciamo stare, perché altrimenti litighiamo Gaetano. Luca, però tu ovviamente puoi tenere le tue opinioni, ovviamente nessuno ti giudica per le tue opinioni, però a me non piacciono le tue opinioni. Luca, pubblico con stralcio dell'articolo della Lucarelli, il resto ci va, ok, ok, Luca, hai deciso di farmi litigare ancora, ciao Selvaggia, che l'altra volta hai avuto il piacere di ascoltare la nostra puntata, il resto ci va giù pesante, chiaramente, ma lo sappiamo, in questo mondo di apparente incommunicabilità, lui e la moglie decidono di andare insieme dal terapeuta di coppia, il quale, vecchia volpe, comprende subito che il problema dei due è quello di non essere mai soli, e quindi suggerisce loro di trascorrere un weekend insieme con dieci cameraman e il gruppo di autori a supporto in una serie tv distribuita in tutto il mondo da Amazon, vabbè, fa ridere, fa ridere, fa ridere Luca, hai fatto bene a pubblicarlo, sì, sì, dai, fa ridere, ma è ovvio, quello che, sicuramente, quello che noi stiamo vedendo è una, è una, come potremmo dire, è una pubblicità, non è proprio la psicoterapia, ragazzi, ma noi vediamo un minuto alla volta di psicoterapia in quello stralcio lì, e poi è chiaro che dice, ma andate a farvi un weekend da soli, sarà anche un po', farà anche un po' parte della situazione, insomma, quindi lo sappiamo bene, non si può far vedere tutto, inoltre, che dire, che dire, esiste davvero il weekend, esiste davvero quella cosa lì, cioè nella terapia di coppia esiste davvero quella roba lì, cioè pagina 1 della terapia, del manuale della terapia di coppia, capite? E quindi prendersela con pagina 1 del manuale della terapia è un po' come se io dicessi, la storia inizia quando l'uomo impara a scrivere, e si sposta dalla preistoria, la storia, bravo, bravo, complimenti, complimenti, e un altro mi dice, se hai detto una banalità, se ho detto una banalità, ma è vera, è vera, ok, vabbè, ok, si capisce che loro dicono, intanto mi sembra che, mi sembra che sia proprio, frainteso, adesso qua fa ridere il pezzettino, messo, Luca sta mettendo un pezzettino, di Selvaggio a Lucarelli, per essere precisi, dove appunto, li prende in giro per questa cosa, ma, come dire, Vecchia Volpe comprende subito, che il problema dei due, è quello di non essere mai soli, ma dove? Dove l'hai visto? Dov'è? In quale punto della terapia, è evidente questa cosa? No, lui ritaglia dei posti, dei momenti da soli, nei quali loro possono fare, dei compitini, come quello che hai visto, il compitino della Gruppi, sperimentalo, e vedrai, che quel compitino, fatto in un altro modo, perché lì avevano bisogno della Gruppi, nel nostro caso, potrebbe essere quella del giornalista, e del criminale, che è il giornalista investigativo, il criminale che scappa, o comunque un gioco di ruolo, che ci consenta di comunicare in modo differente, è utile come? E può essere utile, anche se fatto di fronte alle telecamere, così come hanno dimostrato, anni e anni, di decenni, anzi, secoli, di psicodramma, cioè, della possibilità di mettere in scena, le proprie conflittualità interiori, di fronte ad un teatro, ed avere comunque un cambiamento terapeutico, qual è la differenza? Qual è la differenza tra lo psicodramma, e farlo davanti a dieci telecamere di Amazon? Io piango in quasi tutte le sedute, dice Grazia, ok, con un bel risata, e Tony dice, ecco, Tony dice, c'è un altro messaggio negativo però, i Ferragnez sono associati all'opulenza, si può sottointendere, che accedere a certi servizi, sia un lusso, come andare in barca, o mangiare in un ristorante stellato, non credi, ovviamente questo è sempre un po', il, è sempre un po' il pericolo, Tony, anche se, come dicevamo, invece, quello che stanno facendo, cioè, divulgare, la possibilità, la normalizzazione, di andare in psicoterapia, è invece per me, non un modo, vittoriano, di dire, ah, in psicoanalisi, sai, io vado in analisi, quattro volte alla settimana, essendo nobile, non avendo nulla da fare, durante, durante la mia vita, no, invece, secondo me, stanno dicendo, guardate che tutti, potete fare quella cosa lì, che tutti potete, che tutti potete, andare in psicoterapia, ok, non diventare ricchi e famosi, tutti potete andare in psicoterapia, e quindi, e quindi, io direi che, l'effetto, è solo quello di, rendere la psicoterapia, come dovrebbe essere, gratuita, per tutti, e ve lo dice uno psicoterapeuta, che, capite cosa, cioè, ragazzi, il, perché, non è che lo psicoterapeuta perde il lavoro, ragazzi, nel resto del mondo, gli psicoterapeuti, vengono pagati dallo Stato, vengono pagati dalle assicurazioni, vengono pagati dalle aziende, e non dai diretti interessati, o perlomeno, quando pagano, pagano davvero poco, io credo che, questa, popizzazione, della psicoterapia, faccia bene alla psicoterapia, a tal punto, che come vi ho detto all'inizio, resterà, in qualche libro di storia, della psicologia, della comunicazione, della psicologia, dell'importanza, come scrive giustamente Arianna, visto l'effetto che ha fatto la Ferragni, sulla fluenza dei giovani, agli uffizi, ovunque vada, per me può fare un gran bene a tutti, soprattutto alle nuove generazioni, Luca, interessante spunto, ed è proprio vero che si può sempre imparare da tutto e da tutti, tutto può essere utile, bisogna mantenere apertura mentale, disponibilità, anche verso fonti insospettabili, Giovarco, buongiorno Giovarco, fa sempre domande difficilissime, che non c'entrano una mazza, ma andiamo a vedere, sto scherzando Giovarco, perché l'altra volta mi fa, come mai ho veramente pochissimi ricordi del passato, ma questa è una bella domanda, i pochi ricordi che ho fino alle medie, e a parte del liceo, sono emotivamente più forti, e sempre in terza persona, i miei ricordi praticamente, mi vedo nelle scene, è normale, dipende Giovarco, dipende, allora se vuoi ti do una risposta male, brutta, oppure se vuoi ti do una risposta, la risposta che darei di fronte ad un pubblico, ti do prima la risposta che darei di fronte ad un pubblico, allora è normale, avere, non avere ricordi intensi del passato, soprattutto, soprattutto in determinati contesti, allora, fino a una certa età, i ricordi non ci sono, cioè chiunque vi dica che c'ha dei ricordi di quando aveva un anno, quei ricordi lì sono ricostruzioni, cioè significa che la mamma ha detto al figlio, sai che quando avevi un anno sei caduto dal tavolo, e il figlio in qualche modo ha un pezzo di realtà, è un pezzo della ricostruzione della mamma, questo lo sappiamo dagli studi dell'Elisabeth Loftus, che sono venuti dopo quelli di un certo Cesare Musatti, che qui a Padova si occupò di psicologia della testimonianza oculare, l'Elisabeth Loftus, di cui abbiamo parlato centinaia di volte, c'è anche un podcast di Bo, la puntata numero 50, una delle prime puntate, ha dimostrato in modo incontrovertibile che le nostre memorie non sono quelle cose dentro un cassettino dei ricordi, come diceva Gerry Scotti, signora, guardi dentro il cassetto dei ricordi, nel cassetto dei ricordi non c'è un bel niente, ogni volta che tu ricordi qualcosa, Giovarco la ricostruisci, e se il processo di ricostruzione del ricordo è stato in un qualche modo inficiato dal fatto che non l'hai fatto abbastanza volte, eventi negativi, eventi che hanno fatto sì che tu potessi farlo il meno possibile, eccetera, è possibile che tu abbia pochi ricordi del passato, ma ad esempio Giovarco, se ti interessa migliorare questo aspetto, noi abbiamo un percorso che si chiama Scrivi la tua storia, dedicato proprio non a ricercare i ricordi del passato, ma a cercare di ricostruire in modo coerente e proficuo i ricordi del passato. Perché? Perché la costruzione della tua identità è legata a come tu ti vedi nei tuoi ricordi. Se tu immagini di finire senza memoria, a un certo punto, o meglio, se immagini di finire ovunque, che non sia il pianeta Terra, e qualcuno ti chiede chi sei, descriviti, tu ti descriverai attraverso un insieme di ricordi. Sono Giovarco, sono alto 1,70, faccio l'astronauta spaziale, eccetera. Simone, è giusto consigliare spesso alla propria compagna come comportarsi nel lavoro, essendoci passato, o lasciare anche sbagliare pur sapendo? A volte mi sembra di insistere troppo e ho paura che non scelga lei, ma sia io a farlo. Dipende, dipende. Io ti dico dipende, dipende Simone. Simone, tu mi fai tutte domande che richiedono che tu sia davanti a me e che io conosca la storia della tua vita. Per cui ti dirò sempre dipende. A parte che dipende sempre, però in particolare Simone c'è questo approccio. Io la tua compagna non la conosco. Che lavoro stai parlando? In quale contesto? Come dai questi consigli? Questi consigli sono ben accetti o non sono ben accetti? Insomma, alla base, per darti una risposta che abbia un minimo di senso, dovrei farti 7 milioni di domande. Quindi, in generale, dare consigli alle persone che vogliamo bene è utile. L'importante è che questi consigli non diventino delle pretese. Cioè, io posso dire a mia moglie che, non so, ha preso la patente da poco, che sarebbe bene che lei facesse quella manovra in quel modo. Però, se, uno, io mi sostituisco a lei, lei non imparerà mai a fare quella manovra. e, due, se io trasformo questa mia richiesta in una pretesa, potrebbe diventare un conflitto coniugale che, diciamo, non ha bisogno di esserci. Ecco, questa è la risposta un po' per tutti i gusti. Valentina, buongiorno. Buongiorno Sabrina. Sabrina Ciccarelli, buongiorno. Esatto, sento quasi il bisogno di uscire di casa insieme alla mia amorosa visto che lei ha una situazione simile. Grazie già. Simone, davvero, esci di casa, che non significa tagliare i ponti, esci di casa e vedrai che, piano piano, la tua maturità, il fatto che non ci siano più questi accule e i vicini, renderà molto migliori le relazioni. E ricordati che tuo padre è il tuo Buddha. Cioè, se tu riuscirai a sopportare il tuo padre, tutte le persone simili che incontrerai nella tua vita riuscirai a sopportarle e viceversa, purtroppo. Serena scrive non seguo la serie e conosco pochissimo i Ferragnez. Penso che possa essere utile per ridurre lo stigma sociale ancora esistente verso chi decide di farsi aiutare da uno psicoterapeuta patto, a mio parere, di mostrarne anche l'efficacia. Sì, è vero Serena, ci vuole anche l'efficacia. Ciao Noemi, io sono arrivata ora sulla terapia di coppia. Avrei una domanda che spero di fare uscire in modo comprensibile. Vediamo un po'. Quando ci sono delle cose irrisolte a livello personale che però impattano sulla vita di coppia, qual è il percorso intraprendere per primo? Di coppia o personale? E' certo. Mi dice non ho disponibilità economica per affrontare tre percorsi di terapia differenti. PS, buongiorno, messo like. Ragazzi, avete messo like? Avete condiviso questa puntata? Mettete like, per voi è uno sforzo minimo che serve tantissimo agli algoritmi per trovarci. Allora, Noemi, la tua è una domanda molto bella e molto difficile perché dipende. Dipende da qual è lo scopo della terapia. Allora, se è chiaro che sarebbe meglio fare entrambe le cose e anzi, Noemi, spesso si fa così. La terapia di coppia, come si vede anche nella serie De Ferragnitz, non è solo una terapia di coppia ma molte volte il terapeuta poi prende da solo l'uno e l'altra e svolge un po' di terapia individuale. Diciamo che se il problema è di coppia il mio consiglio è andate da un bravo terapeuta di coppia e questo via via che proseguirete vi farà capire se sia il caso di lavorare solo su voi stessi. Viceversa, se siete voi uno dei due convinto di dover fare la terapia di coppia ma vostra moglie e vostro marito non vuole andateci voi da soli perché questo vi aiuterà magari anche a convincerla a convincerlo se migliorerete oppure viceversa vi farà capire se è il caso o meno di fare una terapia di coppia. David, ciao David ciao Genna ho ascoltato la puntata 409 e i tre cerchi della realizzazione personale e mi è piaciuta tantissimo moltissimo grazie fai dei percorsi o delle consulenze personali su questi temi? no non faccio consulenze personali ma come percorsi David qui su SPS anzi adesso vi metto qua il sito www.sviluppopersonalescientifico.com eccolo qua su questo sito no ho fatto una cavolata arrivo arrivo ho fatto una cavolata su questo sito che vi metto qua aspetta che ritrovo la domanda me la sono persa oggi mi metto David su quel sito lì puoi trovare tantissimi percorsi che sono proprio tratti da questa filosofia percorsi per la tua consapevolezza percorsi per la tua serenità e percorsi per i tuoi achievement le cose che vuoi raggiungere a proposito che pensi di lui aspetta io credo che l'inizio di tutto sia individuare il proprio perché per dirla alla Sinek a proposito cosa pensi di lui sì è molto interessante infatti Sinek non fa altro che ripetere la la tiritera sui valori che anche noi utilizziamo però bisogna stare attenti bisogna stare attenti perché è un percorso circolare non esiste un inizio preciso da dove partire ognuno ha un proprio inizio particolare eh sì mi piacerebbe fare una consulenza privata con te per i miei valori se te la mia bussola è qualcosa che fai no David non lo faccio più non lo faccio più e almeno per i prossimi sei sette mesi otto mesi non aprirò il mio studio a nessuno e lo aprò soltanto a chi ha già affrontato i miei percorsi quindi eh si potreste avere una possibilità acquistando però i miei percorsi prima e di modo che quando vieni nel mio studio partiamo già da un linguaggio comune oltre al fatto di avermi dimostrato che apprezzi il mio modo di parlare di queste cose Gaetano dice mi sono espresso male non è che fingano però c'è sempre un interesse in quello che fanno per esempio perché associare la vendita di un cd ad un ente di beneficenza quando potrebbero dire di donare direttamente senza acquistare i loro prodotti eh ma questo è un pezzettino in più Gaetano di come funziona di come possono funzionare queste queste situazioni perché è brutto che loro facciano del bene facendo del bene anche verso se stessi potrebbero fare potrebbero mettersi tutti i soldini in tasca perché chiedere di mettere un ente di beneficenza guarda che davvero c'è dietro un pregiudizio Gaetano mi sembra che ci sia mi sembra ci sia un pregiudizio poi magari mi sbaglio magari sono io che sono come dire sono troppo ingenuo e non mi rendo conto che in realtà sono dei geni del male ma a me non sembra proprio Sabrina non ho ancora visto la serie ma criticare ciò che emerge da un minuto di terapia tagliato ad hoc vuol dire non essere obiettivi è chiaro che faranno mille altre cose durante quella preziosissima ora brava Sabrina brava bravissimo ovviamente collega Sabrina Ciro io non ne parlo proprio perché ci sguazzo nel gossip penso solo che se sostituiamo i Ferragnez con Albano e Romina è uguale sicuramente avrebbero più cose da raccontare ci sta Simone la gente che ce l'ha su così tanto con questa coppia in realtà non l'ha mai vista da vicino ma giudica solo per moda perché sono visti male da principio mio parere personale potrebbe essere Valentina cercando sempre di non essere troppo giudicanti io reality del genere come erano i Kardashian sono schiaffi alla miseria ma è un reality su come si campa con meno di mille euro al mese ci starebbe Valentina ci starebbe un bel reality così Paola buongiorno come capire se mi è sufficiente un tuo prodotto o mi serve una terapia beh se ti aiuta se ti aiuta Paola beh allora no partiamo dal principio mio prodotto non è mai sostituto di una terapia ok anche il prodotto più clinico che abbiamo dall'ansia alla serenità non sostituisce una psicoterapia assolutamente può aiutarti tantissimo e qua abbiamo tantissime persone che hanno svolto questo percorso te lo possono testimoniare non sono persone pagate da me anzi hanno pagato per quei prodotti ok quindi dall'ansia alla serenità può aiutarti tantissimo ma non sostituirà mai una psicoterapia ok quindi se tu senti di aver bisogno di una psicoterapia Paola non comprare i miei prodotti e vai in psicoterapia se invece senti che potresti cavartela da sola o perlomeno potresti iniziare a farlo da sola puoi iniziare con i miei prodotti e poi eventualmente i miei prodotti ti chiariranno i nostri percorsi ti chiariranno ancora di più se è il modo e dove andare in psicoterapia grazie per la risposta sulla compagna ho capito ottimo Simone grazie avrei bisogno di un consiglio Genna so che se non sei un esperto di dipendenze ma ci provo ugualmente sia infatti dipendenze bambini non chiedetemele ho un amico che purtroppo è tossico dipendente ma non ammette il problema come come posso affrontare un discorso con lui e fargli come posso affrontare un discorso con lui e fargli capire che ha bisogno di aiuto grazie per i consigli e scusa se l'argomento è totalmente fuori tema questo è difficile questo è difficile grazie non lo so non lo so non è facile questa 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 richiesta perché dovrei capire dovrei sapere che cosa è importante per il tuo amico dovrei sapere che sostanza di che sostanza abusa dovrei sapere qual è la relazione che intercorre tra di voi ammettiamo che tu sia la sua amica del cuore ok un consiglio che potrei darti è quello di è quello di dire a lui in modo chiaro e onesto guarda io io ti voglio bene Luigi Luigi io ti voglio bene siamo amici da una vita però io lo so che tu sei dipendente da quella cosa lì non me ne frega niente io ti voglio bene al di là di quella cosa lì però per il tuo bene non voglio essere complice quindi se sabato sera usciamo e tu vai ogni due secondi in bagno a pippare io me ne vado via come mi accorgo di questa cosa me ne vado via lo so non è il metodo migliore probabilmente anche sbagliato per il 70% delle volte per cui è molto complesso grazie ed è anche per questo che parlo poco di dipendenze buongiorno Simona Simona ma a proposito di percorsi di Psynel hai parlato del nuovo corso scusa mi sono collegata adesso sì Simo sta per uscire proprio oggi self love un percorso dove per 30 giorni vi accompagno a migliorare il rapporto che avete con voi stessi Martina per il canale telegram invece se scrivo sviluppo personale scientifico non riesco a cercarti allora per il canale telegram adesso te lo mostro state attenti ragazzi perché il canale telegram è una roba molto particolare solo per true true fan ve lo dico ok cioè nel senso che io sono molto molto ok o Simona ragazzi ascoltate Simona per le dipendenze ok Simona scrive grazia non puoi deve arrivarci da solo o bene ecco Noemi quindi lo stesso psicoterapeuta potrebbe fare delle sedute anche a livello personale o comunque si dovrebbe andare anche ad un altro professionista daremo la priorità di quella di coppia perché vorremmo crescere al meglio i bambini sì esattamente focalizziamoci sul messaggio di fondo della serie tv scrive Davide ovvero andare dallo psicoterapeuta è una cosa per tutti senza distinzioni economiche cliniche o concettuali bravo Davide bravissimo Davide un applauso a Davide esattamente quello che ho percepito io e che credo che stiano percependo la maggior parte delle persone è una serie dove una persona che va in psicoterapia e dice oh cazzo ma vedi che anche io faccio così ma vedi che sono normale non sono mica matto se non so se parlo di quella roba mi metto a piangere lo fa anche lei lo fa anche lui e vanno anche loro dal terapeuta ed è qualcosa che uno dice cazzo ho sempre pensato di andare a bisogno di un terapeuta ma così così io ci vado adesso sappiate che nelle vostre ASL potete accedere a un servizio di psicologia e psicoterapia gratuito quasi gratuito in base al vostro reddito ovviamente potete andare all'ASL e dire ho bisogno di un percorso psicoterapico è chiaro è diverso dal potervelo scegliere voi ma la stessa cosa funziona se dovete andare all'ASL per andare dal dentista o andare dall'oculista qualsiasi specialista dell'ASL viene scelto in modo random dall'ASL non te lo puoi scegliere a parte il medico di base non te lo puoi scegliere perché dipende chi è di turno in quel momento questa cosa che sembra terribile in realtà è una meraviglia ragazzi il nostro sistema sanitario è invidiato in tutto il mondo David ok grazie per la risposta per ora ho preso MMA ottimo quale mi consigli in relazione alla ricerca del perché scrivi la tua storia sì più scrivi la tua storia ma fai MMA fidati di me fai MMA con tutto te stesso David e vedrai che ti darà tantissimo De nada Paola dovrebbe Gaetano dice dovrebbe girare una serie su come quella girata di Castellito andate in onda su Sky però con coppie famose sarebbe un'ottima promozione sì c'è c'è sai Gaetano la stanno facendo e vi dico mi hanno anche contattato per farlo ma non credo che non credo che non credo che mi chiameranno mi hanno contattato per fare una serie così ok adesso non spoilerò perché se un giorno mi chiameranno sarà carino anche se io come vedete sono un po' lontano da sì solo per veri psinellini e telegram se ti piace psine il podcast ti piacerà psine il telegram grazie Gaetano De nada Davide grazie sono riuscita a unirmi al canale brava Martina grazia grazie Simona lo so perché ecco è difficile stare a guardare una persona a cui vuoi bene mentre si autodistrugge grazie comunque per i vostri consigli capisco che sia difficile consigliare in queste situazioni perché sono davvero complicate anch'io vado da un terapeuta scrive Valentina e ho seguito un corso di Gennaro scrivi la tua storia una cosa non esclude l'altra anzi grazie mille Valentina bene ragazzi quindi io vi ricordo abbiamo terminato direi chissà se un giorno Fedez o Chiara Ferragni ascolteranno questo podcast non credo però dopo io provo a provo a a taggarli ma con tutta la gente che li starà taggando in questo periodo saremo probabilmente gli ultimi che verranno ascoltati ma se in caso ascoltassero grazie grazie di cuore grazie di cuore Chiara grazie di cuore Federico per questo per questa divulgazione che state facendo non da adesso che state facendo da sempre per cui davvero davvero grazie di cuore perché secondo me mi fa secondo me può aiutare le persone a uscire un po' da questo stigma ci abbiamo messo decenni e se voi ci riusciste sono sicuro entrereste anche in questo libro di storia nel libro di storia della psicologia della psicoterapia come la prima diciamo la prima e vera divulgazione pop di questa faccenda e se qualche mio collega sta ascoltando questa cosa vi ricordo che Freud pubblicò l'interpretazione dei sogni non nel 1900 non nel 1899 quando ne terminò la prima stesura e anche la prima edizione ma la rese famosa nel 1900 nel tentativo di dire questo è il libro del cambio di secolo e se quello non era comunicare lo stiamo facendo anche noi adesso lo stiamo facendo grazie a voi grazie a tutti condividete la puntata e ci vediamo domenica con un episodio l'episodio di Psynel dedicato all'insonnia dedicato a come migliorare il nostro modo di dormire ma tranquilli non vi parlerò delle solite robe per dormire quindi non stare sveglio certo accennerò all'igiene del sonno ma parleremo dell'insonnia a 360 gradi e che tu dorma bene o che tu dorma male posso assicurarti che avrai molto da imparare dall'episodio 411 della puntata oggi mi raccomando antennine alzate per chiunque voglia fare il percorso sulla self love e imparare ad amarsi meglio e di più e a presto buona giornata a tutti